Pasticceria, cioccolateria e caffetteria Mezzaro, quindi è un nome, una tradizione e anche una garanzia. Noi siamo con Matteo Mezzaro e con Filippo. Filippo è l'esperto del caffè, della parte bar, della parte caffetteria, mentre Matteo è pasticciera. Allora facciamo parlare Matteo. Allora io sono il pasticciere, sono quello che ha ereditato questo ramo che portiamo avanti come famiglia dal 75 come attività perché i nostri genitori nel 75 hanno aperto una loro attività, erano già nel settore e sono decisi di mettersi in proprio e è nata questa piccola realtà, già con una filosofia ben precisa aziendale dove la qualità doveva essere prima di tutto, quindi la selezione delle materie prime e la lavorazione doveva essere del tutto artigianale e da lì è nato il nostro grande amore per questa passione. Senza cambiare la filosofia, quindi è sempre qualità. La filosofia è sempre quella, non la giochiamo con nient'altro in cambio. Personalmente come fratelli ci teniamo anche molto all'estetica, quindi quello che deve essere prima di tutto buono e ben definito deve essere anche piacevole alla vista perché si compra soprattutto prima con lo sguardo. Con questo poi negli anni ci siamo sviluppati nei vari settori, dieci anni fa abbiamo aperto questa nuova attività, io e lui in primis con spalleggiati dei nostri genitori indispensabili sempre che ci hanno trasmesso questa grande passione per questo lavoro, dedizione, sacrificio e il servizio proprio nel vero senso della parola verso i clienti. È nata questa nuova attività con un'evoluzione nel senso che è nata come pasticceria con l'aggiunta della caffetteria che in realtà prima, nella nostra attività di prima, non c'era. Continuo a parlare di pasticceria, a questo punto quali sono le specialità vostre proprio? Sì, allora la nostra specialità storica, diciamo così, da quando siamo nati, anche prima, che nascessimo da quando hanno aperto questa attività ai nostri genitori, sono le delizie, che sono due cialde sottilissime, molto friabili, a base di mandorle, unite da una pasta gianduia, una pasta gianduia realizzata con Nocciole Piemonte, realizzata da noi, quindi un cioccolato creato nel nostro laboratorio. Vengono accoppiate queste due cialde unite da questa pasta gianduia e incartate poi, una volta raffreddate, a mano una ad una, quindi un lavoro anche molto complesso. Questo è il nostro cavallo di battaglia da sempre. In seguito ci sono giunte altre specialità, come le albicocche, circa sette anni fa, apprezzate anche da molti maestri di fama nazionale. Sono delle albicocche che vengono semicandite, farcite con una crema al cognac, leggera, molto piacevole, quindi non troppo aggressiva, e ricoperti in puro cioccolato fondente. Quindi abbiamo una parte morbida, una parte licuorosa, ma piacevole anche per le signore e una glassatura molto croccante al cioccolato fondente, sottile e croccante esternamente. Nella telecamera i profumi, gli aromi non si sentono, quindi bisognerà per forza venire in via Cavour ad Alessandria. Vi aspettiamo. Adesso parliamo invece della caffetteria e parliamo con Filippo, che Filippo non è che fa il caffè come fa qualunque bar, no, è anche diplomato. Facciamogli dire un po' da lui quella sua storia e la caffetteria. Come ha detto Matteo, praticamente ciascuno ha la sua professione, il suo campo. Sono anche dieci anni che ho interpreso questo settore qua. Diciamo che comunque ci vuole anche la professionalità. In questi anni ho sviluppato diversi corsi, fatto aggiornamenti, degustazioni, tutto quanto, anche concorsi a livello nazionale. Diciamo che il nostro locale si viene per la caffetteria, quindi proprio la sensazione del caffè. Il modo giusto di degustare un buon caffè, un buon espresso italiano, ma non solo. Poi proponiamo anche diversi cocktail a base di caffè, tra cui anche cose estravaganti con tecniche anche moderne di caffetteria. Questo diciamo che dà un tocco diverso da quello che la città può proporre, diciamo, in più. Insomma, cappuccini a regola d'arte, come deve essere. Adesso io chiederei a Filippo com'è che deve essere un buon caffè? Buon caffè deve essere, praticamente, si parte sempre dalla miscela che deve essere una buona miscela. Noi in questo caso abbiamo la miscela della Blue Mountain, della Jamaica Coffee Corporation, che comunque un caffè, un 100% di arabica, deve avere delle caratteristiche da buon espresso italiano, quindi accadute in 25 secondi, 7,5-8 di grammatura per caffè, a dose di caffè e una quantità di 25 millilitri di prodotto. Questo diciamo che da noi viene rispettato tutto questo. In più, appunto, buon caffè, poi già il colore, la tigratura del caffè, i profumi, tutto quanto, dà il top, diciamo, di quello che è un buon caffè. E poi anche, insomma, ripeto, il cappuccio. Da un buon caffè si fa poi tutta una produzione di tutta la gamma della caffetteria, quindi si lavora poi anche bene. Ricordiamoci che il dolce rende la vita più piacevole.